Ben trovati o ben ritrovati per una nuova edizione del telegiornale, cerchiamo di rubare meno tempo possibile perché c'è da vedere il secondo tempo della finale di Coppa di Serie a due di basket. Andiamo veloci allora, vediamo che cosa è successo oggi, in particolare c'è stata una marcia della pace fino a Valdibrana che ha fatto registrare un notevole afflusso di persone. Oltre 300 persone hanno partecipato alla marcia della pace, Pistoia rifiuta la guerra organizzata dalla comunità di Valdibrana, la partenza da Piazza della Sala. La marcia è passata per le vie del centro storico, Piazza del Carmine e la Ciclabile fino a giungere in via del Villone dove ad attenderli per non iniziare la marcia i bambini della materna di Valdibrana. Raggiunta Valdibrana partecipanti hanno ricevuto dai Boy Scout Ramoscello d'Olivo, simbolo della pace. Direi che è andata oltre le aspettative, noi ci si aspettava sì una certa partecipazione ma non così numerosa, quindi dal punto di vista degli organizzatori siamo molto soddisfatti della cosa, di quante persone hanno partecipato. È stata una bellissima iniziativa, insomma contenti di aver partecipato e viva la pace e speriamo insomma finisca tutta più presto. Che cosa pensi della guerra? E che è una cosa inutile! Cosa diresti alla Russia? Smettila! Non voglio che succeda! Ecco! Secondo me la guerra è una cosa ingiusta perché le persone non possono vivere in questo modo. Secondo me la guerra è una cosa brutta che non dovrebbe mai succedere e piuttosto di fare guerra dovrebbero parlare. È una cosa orribile che non deve mai più accadere perché è proprio una pazia, in questo momento con il Covid è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno proprio. E non va bene, le botte non sono la risposta, bisognerebbe trovare una cosa diversa. Che non ci deve essere! Non è giusto che ci sia la guerra! Abbiamo manifestato con la convinzione di sensibilizzare, poi si spera davvero che ci ripensi questo pazzo. Cosa diresti a Putin? Quel che fa ecco non è la cosa giusta, non è giusto quello che sta facendo e che la guerra non è mai la soluzione giusta. Secondo giro degli aiuti umanitari per la protezione civile di Chiesina Ozzanese, per tutti gli enti e le persone della Val di Neve che stanno dando una mano importante all'Ucraina colpita dalla guerra. In questo secondo viaggio il materiale recapitato dal gruppo guidato dal Presidente Ivano Lucchesi ha riguardato principalmente il settore dei medicinali, garze antinfiammatori, antidolorifici, altre ancora, destinate agli ospedali ucraini che ne hanno estremamente bisogno. Le immagini gentilmente concesse proprio da Ivano si riferiscono all'arrivo della carrovana umanitaria al passaggio fino alla zona franca fra Polonia e Ucraina e lo scarico dei furgoni. In occasione della campagna nazionale Mi Illumino di Meno per sensibilizzare sul risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile nella Chiesa di Piazza dello Spirito Santo a Pistoia si è svolta una singolare iniziativa. È un concerto a lume di candela quello che si è svolto nella Chiesa di Sant'Ignazio in Piazza Spirito Santo a Pistoia. L'Accademia Internazionale d'Organo e di Musica Antica Gerardeschi ha aderito in questo modo alla campagna nazionale Mi Illumino di Meno che ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone al risparmio energetico e ad uno sviluppo sostenibile. Abbiamo come associazione aderito a questa giornata principalmente perché notiamo che i bambini che a volte circolano in Accademia per vedere gli strumenti con le scuole, tutto, sono sempre molto attenti all'aspetto green della vita, questo anche mia figlia per esempio è sempre molto attenta, spingi tutte le luci e quindi abbiamo colto l'occasione per radunare insieme anche bimbi che suonano, per avere una bella serata di musica. Quindi questa iniziativa, strana se si vuole, ma significativa, ha luogo in questa chiesa ed è tanto più significativa quanto i protagonisti sono bambini, ci saranno 32 bambini che suonano, quindi per noi è una cosa molto bella, anche come speranza per un'incentivazione dello studio, della musica, specialmente dell'organo che si sentirà poco, soltanto una volta, tra l'altro pompato a mano rigorosamente perché non si può usare l'elettricità, questa iniziativa quindi verrà pompata a mano e si spera che ci sia una sensibilizzazione nei confronti della musica e della musica in chiesa in particolare. Un po' di numeri sono in calo, i numeri che riguardano la pandemia sono in calo, nuovi positivi, mezzo migliaio o meno rispetto a ieri, i ricoveri in isolamento calano, meno 18, quelli in terapia intensiva meno 2, in totale sono 39, questo per quanto riguarda la regione toscana, aumenta però il tasso dei positivi ora quasi al 16%, in provincia e Pistoia, 212 nuovi contagiati, non vengono segnalati decessi in provincia, mentre 8 sono in regione, 32 le persone in isolamento all'ospedale Saiacopo per Covid, 1 in terapia intensiva, 1 in pediatria. Ospitalità e accoglienza sono i valori che da secoli caratterizzano il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Ospitalità e accoglienza sono i valori che da secoli caratterizzano il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela e proprio a questi due concetti è dedicata la mostra fotografica ospitata fino al 10 aprile nelle sale affrescate del comune di Pistoia. 47 scatti che ritraggono momenti di vita catturati negli ostelli, nelle chiese, all'aperto, ovunque ci sia incontro, solidarietà e amicizia lungo il cammino tra Roncisvalle e Santiago. La regione Galizia ci ha portato questa bellissima mostra fotografica sul cammino di Santiago, in particolare le immagini che vanno nel cammino francese da Roncisvalle a Santiago. È veramente un consolidamento dell'apporto culturale legato alle nostre tradizioni, al culto di Saiacopo di cui ne siamo veramente molto orgogliosi. La mia lettura di questa mostra è molto semplice, è una mostra sulla ospitalità e la coaglianza nei pellegrini nel cammino di Santiago, che è un sentimento profondo, che è una pietra angolare del fenomeno di Jacobeo, del fenomeno del pellegrinario a Compostela. E' lo stesso che succede in tutti i cammini, non solo nel cammino francese, diciamo. E' un fenomeno di questa coaglianza, una sensibilità che fa parte del sentiero del pellegrinario. Pellegrinaggio come camminare e trovare il cammino tra i campi e non nelle strade già battute. Sì, questo è proprio il significato etimologico che evoca la parola pellegrinaggio, da per agros, quindi andare letteralmente per campi, quindi non su una strada o su un viottolo già tracciato, ma proprio alla scoperta di un itinerario nuovo, che poi è quello che ogni uomo deve compiere nella sua vita. E proprio il pellegrinaggio apre all'avventura, cioè all'apertura al futuro, a ciò che letteralmente accadrà. Non è fatto per chi rimpiange un passato. Il pellegrinaggio Jacobeo non è semplicemente un esercizio di archeologia religiosa o di tradizioni stantie fine a se stesse, ma proprio è dalla tradizione, dalla storia, è un camminare verso il futuro. E questo futuro... Un po' di sport, come sempre la domenica, si è interrotta la striscia positiva della Pistoiese, non ce l'ha fatta la formazione arancione a recuperare qualche punticino con il Cesena, nonostante una buona gara e nonostante avesse di fronte la terza forza del campionato. Eh, quello dispiace perché magari è vero sì che il Cesena è terza in classifica, però magari se avesse probabilmente meritato sul campo questa vittoria saremmo meno dispiaciuti. Diciamo che la squadra ha dato tutto quello che aveva, ha giocato con orgoglio, con intensità, con lucidità, abbiamo creato tante occasioni, però non siamo riusciti a rimediare a questa partita che meritavamo certamente e con un altro risultato, però questo al termine dei 95 minuti è così e anche se abbiamo tanta amarezza dobbiamo subito guardare avanti perché tra pochi giorni abbiamo un'altra gara. Ma l'inizio è stato un attimino studiato, non è che abbiamo concesso perché in fondo hanno fatto solo un tiro da 30 metri, quello del gol, perciò ogni meno che ci abbiano creato chissà in quale occasione, mentre noi già nel primo tempo abbiamo colpito due pari, abbiamo avuto diverse occasioni, così nella ripresa altrettanto abbiamo giocato, fatto una partita, però ci deve dare morale e fiducia per il procedo del campionato perché quando una squadra impone alla terza in classifica il proprio gioco penso che i presupposti siano positivi, l'importante è dare continuità a questo tipo di mentalità di gioco perciò anche se oggi è stata una sconfitta io penso che ai giocatori non gli si può rimproverare niente in fondo è quello che gli chiedo prima delle partite, insomma di dare tutto quello che hanno e l'hanno fatto, meritavano qualcos'altro però purtroppo non raccogliamo niente e speriamo di raccogliere magari in altre occasioni. Nelle ultime 24-48 ore è venuto fuori un virus che ha messo a capo questi due giocatori come in precedenza ne aveva messi altri fortunatamente recuperati e speriamo che si possano recuperare per la prossima partita al momento non so qual è la condizione, domani cercheremo di valutare meglio la condizione di tutti perché molti giocatori oggi sono usciti con qualche problema e sarebbe importante recuperare magari questi giocatori che oggi non erano a disposizione. I dispiaceri di questa partita per voi domani già ci dobbiamo ritrovare per cominciare a fare le valutazioni per la prossima partita e cercheremo di mettere quella positività che abbiamo messo in queste partite come abbiamo messo anche oggi, perciò sappiamo dell'importanza però al momento smaltiamo un attimino queste tossine, questo rammarico che abbiamo e poi da domani comincieremo a pensare ai prossimi avversari. Come hai detto c'è stata una squadra in campo al secondo tempo certamente dobbiamo migliorare sull'inizio della partita e comunque abbiamo fatto una buona gara c'è stata la prestazione della squadra, c'è stato un grande atteggiamento voglio di andarla a riprendere e comunque pensiamo alla prossima andiamo a Viterbo e cercheremo di andarci con tutto l'atteggiamento che abbiamo messo oggi con il Cessina e noi ci crediamo fino alla fine. Ovviamente tutti i compagni, il relatore, la società, tutti quanti sono tutti meritavano di più siamo dispiaciuti ma non dobbiamo mollare perché comunque mancano sette partite e dobbiamo andarci come se fossero delle finali perché noi vogliamo salvarci ma sicuramente sono soddisfatto devo ringraziare il mister, i compagni come ha detto sempre anche il direttore mi sta dando questa opportunità e io sto cercando di fare il mio meglio poi dobbiamo fare pensiamo già alla prossima ringraziamo i tifosi che anche oggi sono venuti a fare per noi ci danno una grossa mano e noi anche per loro non dobbiamo andare fino alla fine. Secco 4-0 dello Spezza nei confronti della pistuese femminile stiamo parlando del campionato di Serie C era il recupero della 17esima giornata in Serie D invece bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto per l'Aglianese che oggi nella 28esima giornata è andata a pareggiare 2-2 sul campo della seconda in classifica Ravenna mezzo pieno per il risultato di prestigio mezzo vuoto perché a inizio di ripresa i neroverdi conducevano per 2-0 grazie alla doppietta di Nieri con questo punto i ragazzi Mister Venturi sono rientrati in zona playoff al quinto posto insieme alla Correggese pareggio Beffa per la Val di Nievole Montecatini nella 17esima giornata del campionato di eccellenza la formazione Sciro Muscedola a lungo un vantaggio grazie alla rete di Giglio si è fatta raggiungere dal Prato 2000 al 91esimo minuto e su calcio di rigore un po' di basket non ha giocato la Giorgio Tesi Group ferma per le finali a cui era presente ma è andata fuori al primo turno venerdì le finali che poi vedremo nel secondo tempo di Udine Cantù fra poco ferma quindi la Giorgio Tesi Group al maschile c'era la Giorgio Tesi Group al femminile che è la Nico Pontebugianese che è stata battuta in casa nuova brutta sconfitta per la Giorgio Tesi Group e Nico Pontebugianese che sabato sera in un altro match importante in chiave salvezza è stata battuta a domicilio dal basket Capri per 73 a 63 sempre di rincorsa la formazione di coach Leonardo Rastelli espulso per proteste da una coppia arbitrale in serata no aveva dato qualche segnale di vita nel terzo periodo soprattutto all'inizio quando da meno 14 si era riportata a due possessi di distanza poi le orribili percentuali al tiro meno del 29% in totale alcune scelte offensive quanto meno discutibili e i troppi contropiedi concessi hanno spento la rimonta sul più bello ora le speranze di salvezza diretta per le rosa-nero che sono al penultimo posto del campionato di Serie A2 sono ridotte all'omicino anzi a questo punto Nerini e compagne devono guardarsi alle spalle perché Civitanova Marche ovvero il fanelino di coda è a sole due lunghezze e l'ultima retrocede senza la possibilità di disputare alcun tipo di spareggio Coach un passettino avanti non basta ancora non basta non basta perché non possiamo in una sfida salvezza perché ormai si parla di sfida salvezza e dobbiamo essere consapevoli non possiamo permettere un primo quarto così primo quarto dove lascio perdere le medie al tiro che sono state sono state bassissime i primi due quarti sono state qualcosa di veramente non da questa categoria voglio essere duro e come sono stato duro con l'intervallo con le ragazze le ragazze hanno provato a reagire ma non è bastato il terzo quarto molto bene il quarto quarto è successo un po' di tutto non lo vogliono anche considerare dal livello tecnico perché così è difficile giocare a prescindere ma non parlo di fischi non fischi parlo di lucidità un prossimo avanti c'è stato rispetto all'ultima volta sicuramente però adesso dobbiamo capire che bisogna essere molto più molto più cattive Capri che ha comunque meritato il successo aveva in panchina una vecchia conoscenza della palacanestro di qualche anno fa Giovanni Dalla Libera una vita fra 1 e a 2 alla sua seconda panchina e seconda vittoria con le ragazze campane onore anche a Nico Basch che comunque ha cercato in tutti i modi di mettersi in difficoltà una squadra coriacea però noi siamo riusciti a rispettare un po' il gameplay che avevo preparato e quindi le cose sono andate abbastanza bene però ci sono molte cose da migliorare Chiave del match? Il gruppo probabilmente abbiamo capito che non si vince col singolo ma con il gruppo Velocemente gli altri risultati in Serie C Gold Cuspi Serenze Montecatini l'abbiamo vista poco fa nel tardo pomeriggio in diretta 85-56 per i termali Gemma Montecatini Sinegi Valdarno 83-77 per gli altri termali e mercoledì c'è il derby attenzione Agliana Castelfiorentino è andata male per l'Endi Asfalti battuta in casa 87-56 male anche Quarrata battuta da Lucca 81-77 tutte e due le squadre però Agliana e Quarrata giocano in formazioni altamente rimaneggiate Fuzzala Pistoia in A2 di calcio a 5 ha pareggiato con Città di Mestre al Palacarrara ieri 3-3 tanto spettacolo un punto per parte è andata bene il ritorno al campionato all'attività dopo la pausa invernale per l'Hockey Club Pistoia la squadra di Filippo Treno ha battuto in casa a Montagnana il Gran Torto di Padova per 4-0 ed è in testa alla classifica ci vediamo il secondo tempo della finale di Coppa di Serie A2 di basket fra Udine e Cantù poi chi vuole o chi non l'ha vista c'è la replica degli Erons Montecatini sul campo del Cuspisa per quanto ci ricorda è tutto grazie per la cortesia attenzione grazie a tutti